Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici consente di visualizzare la pressione dei pneumatici sul quadro della strumentazione. Segnala al conducente quando la pressione di gonfiaggio è troppo bassa. Dopo aver controllato le pressioni di gonfiaggio dei quattro pneumatici a freddo e, se necessario, effettuata una regolazione, rispettando le pressioni specificate sull'etichetta sul lato sinistro del cruscotto, i valori di riferimento della pressione di gonfiaggio possono essere ripristinati tramite lo schermo multifunzione.